Non raccontate troppi pezzi di voi sui social network, i vostri problemi richiedono soluzioni personali, non le opinioni pubbliche. Rispetta l'anziano quando sei giovane, perché un giorno sarai vecchio anche tu. Il tempo mette ognuno al proprio posto, ogni re sul suo trono e ogni paliaccio nel suo circo. Pensate a quanti vestiti, scarpe e maglioni dobbiamo metterci addosso per riscaldarci il corpo. Al cuore invece basta un abbraccio, la comprensione e la carezza di chi ci ama. Mi sono liberato di tutto ciò che non mi faceva dal bene, cibi, persone, cose, situazioni. E' da tutto ciò che mi tirava verso il basso allontanandomi da me stesso. All'inizio lo chiamavo sano egoismo, ma oggi so che questo è l'amore di sé. Grazie mille per restare con Gia Spaniwa, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Restate con un mondo divertente. Grazie. Si chiama pazienza e quando finisce è un attimo passare per cattivo. Le persone speciali non si fanno vedere, ma si fanno incredibilmente sentire. Non voglio che tu sia tristi. Vivi bene, semplicemente vivi. Io sono a tuo fianco, ad ogni passo. Quando hai le armi per ferire chi ti ha ferito, ma scegli di non farlo, ecco è così che capisci di essere superiore.